nella dispensa ci sono ancora le melanzane peperoni e pomodori a pezzettini fatti l'anno scorso come anche qui peperoni arrostiti tabasco fatto da me salsa di peperoni peperoncini qui abbiamo anche sasso di peperoni secchi 25 11 22 terra questo è il mio tabasco questo è il sasso di pomodori secchi sì 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 e qui abbiamo origano e qui abbiamo i peperoncini piccanti sì sì stiamo bene ancora adesso era di tempo di fare gli altri